bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono il distruttore 0 2 e oggi siamo su minecraft per android ma anche poche di sion per android dicio sul tablet l'ultimo noi facciamo facciamo nuovo survival ovviamente e creiamo ho fatto questo perché non sapevo cosa fare ragazzi no che non si aspetta non voglio giocare così opzioni come cacchio si fa aspettate un attimo ragazzi ok ragazzi ce l'ho fatta volevi che sono questa c'ho la skin ieri c'è il deserto iniziamo subito bene l'italiano degli alberi prima o seconda però opzione no un po ancora un po troppo ancora cross oddio mi sembra andrà bene cacchio faccio vabbè tagliamo ci vorrà due ore ok ragazzi pensavo che ci voleva tagliato solo quell'albero basta facciamo facciamo questo facciamo crafting table che 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 no altro questo bastoncini spada questo bastoncini ancora bastoncini ho fatto una pezzata accetta accetta paga bene per ora ci abbiamo ehm il materiale per ora c'è il deserto grotta 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 che ha di mucca è morta una pecora che mi serve no caccia cos'è ma che che risalga adesso ok possiamo fare solo qui c'ho solo sì c'è il piccone ragazzi aspettate voglio risalire ok ok ragazzi sono risalito cioè come cacchio ho fatto fa male anche il braccio a stare in questa posizione un secondo eccolo oh che esempio muovo tutto oddio ora non ci starà più oh no ci sta attenzione però questo aspettate un secondo ok ragazzi non so come cacchio però sta diventando notte e siamo un po' nei guai mmm perché non c'ho la lana oh fai una ecco cazzo sono davvero nei guai è notte ecco creeper enderman oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo non ci siamo capiti ok ragazzi non so se l'avete visto ma mi si è blocco aspettate di nuovo tutto è pause ok ragazzi ho fatto un piccolo buco che era notte non c'avevamo una sega ho messo anche una torre cazzo non so come lo vedete se lo vedete male perché mi sa che fa schifo no no ma è un massimo così mmm nulla ampliamo perché mi sa che qui c'è le grotte chiuso intanto avevo visto un enderman ragazzi mi sono andato alla fuga perché devo mangiare anche c'ho una sega c'ho il carbone c'ho niente ragazzi intanto questa la piazziamo qui bolla come fa qui ma non ci fa una sega noi ora aspettiamo il giorno anzi no prendiamo un po' di cobblestone e aspettiamo il giorno quanto siamo? 6 minuti mi sa che oggi è andato davvero male in aria oh cazzo oh cazzo ho cazzo no si mi troppo niente ok ok non si dobbiamo aspettare ragazzi ecco c'è un unico buco che cazzo come si chiama che dopo fa? eh si vai oh bene e ora aspettiamo il giorno ragazzi sta avvenendo giorno subito ma abbiamo un creeper sopra che cazzo si fa? Siamo morti Subito all'inizio Benissimo Ok Cazzo No ora devo muovermi subito C'è proprio Devo muovermi ragazzi Devo muovermi Aspetta un secondo Come cazzo Faccio metterlo a modo Non so come cazzo Lo storco un po' Videocamera del cazzo Io vado Verso il deserto C'è una se Oh C'è una mucca Oh Oh Mucca No ora l'importanza è il letto Sono morto subito Oh cibo Uno Cibo Due Aspetta Se lo metto così Non so che cazzo metterlo Ragazzi Eh ci vedrà male Ragazzi Mi si è baggato Intanto qui Cazzo Mi si è baggato Vabbè ragazzi Chissimi Mi si è baggato Qua cazzo Oh cazzo Muoio Oddio Non l'ho visto Ragazzi Io Guarda Quanto siamo A nove minuti Io Ho aperto Ragazzi Super giù Ce l'ho fatta Ammettere Sì ma siamo A nove Profine Qua però c'è solo il deserto Non c'è peco Non c'è niente Comunque sta a farci La fine Non c'è niente Cazzo Continuo fino a qui Vai Sono morto subito all'inizio Non me l'ero aspettato Non potevo fare niente Scavare Potevo prendere le mie cose Ma sono anche un idiota Vabbè Se trovo un villano Anche di sabbia Però di sabbia froncina Sì Mamma mia Trovo più O troverò poi qualcosa Ragazzi via So cosa fare Bisogna che questa puntata Non si è quasi fatto niente La prossima Farò un Devo Oh Sì ho trovato la sabbia Yeah Vabbè La prossima volta si farà un casino di cose Perché Perché si C'è la prossima volta C'è dopo C'è subito dopo questo Farò un altro video Viste Quindi Non si fa Lo cazzo Adrebbero C'è Cazzo Giovede Legna 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 Lasapregna Nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannno Cosa Tutto il legno Ora se lo abbiamo Qualcosa però mi sa che si sente un po troppo il volume si sente sempre un po vabbè si sente come però si sente a mo oh my god via ragazzi per questa puttata mi scusi lo so che siete delusi perché non ho fatto una sega o avete un po' riso perché sono morto col creeper ok l'ultimo leno l'ultimo albero se ce la faccio a finirla mi potrei fare una casa quando ho finito a casa del mio è domani lo so che fa un po' schifo oh super giù è così ma un po' schifosa questa non so come cacchio metterla c'ho il disaiuto avanti ragazzi però sto togando la lena l'ho presa tutta la lena perché c'è senti la mamma mia ma se c'è quello no non trova ne che cosa c'è pecore ammazziamolo ammazziamolo due pecore 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 ammazziamole ragazzi queste due pecorette se no dopo scappano bene abbiamo due blocchi di lana mi manca ultimo ragazzi potrei fare subito il letto no no vabbè ragazzi per oggi oh porca per oggi è tutto alla prossima intanto io provo ce n'è due oh mi spingere io provo ammazziamolo alla prossima ciao e alla prossima dalla pecore dalla faccia oh dalla pecore è tutto ciao ragazzi ah oddio mi sono scordato iscrivetevi al canale mettete il pollicione in su e ciao ragazzoli ciao ragazzi che cazzo dico ciao ciao